Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video, è sabato e c'è una rassegna stampa incredibile che ci aspetta, oggi parliamo di Elon Musk e Bitcoin, cerchiamo di capire che cosa è successo e cerchiamo di capire che conseguenze potrebbe avere per il nostro trading e per i nostri investimenti. Intanto vi ringrazio per la partecipazione alla diretta di ieri sera, dalle 20 alle 24, top, non è vero, nel senso che sto registrando questo video prima della diretta di venerdì. Quindi secondo me è andata molto bene, comunque la risposta al nostro incredibile lancio Master Scocchierello è stata enorme, quindi vi ringrazio caldamente, sono contento che sia apprezzata il portare qualcosa di nuovo, di pratico, di concreto, di innovativo nel mondo del trading, è molto piaciuta e io sono molto contento. Oggi parliamo di Elon Musk, ma prima le cose per benino, io sono Francesco Buzzi, trader, investitore e founder di Batsway.it, mi raccomando iscrivetevi al canale così e attivate la campanella così non vi perdete altri video. Bene, e adesso direi che possiamo partire subito dopo la sigla. Come vi ho detto è una rassegna stampa un po' particolare, quindi l'articolo ancora non c'è, comunque lo trovate qua sotto in descrizione nel video, vi invito sempre a andare su Batsway.it, nella sezione Bats News o articoli, a seconda di quando vedete questo video, trovate tutto ciò che vi serve. Il tema principale ovviamente è quello di Tesla e Bitcoin, cerchiamo di capire che cosa è successo e soprattutto poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Allora, Elon Musk ha un po' di tempo che cazzeggia su Twitter, ha capito che moltissime persone non solo lo seguono, ma fanno anche ciò che lui consiglia di fare, proprio tecnicamente, con i propri soldi. E quindi un po' cazzeggia lì che dice compro qua, vendi là, il futuro è questa azienda qua, è questa azienda là. In settimana ha pubblicato vari tweet riguardo Dogecoin, una criptovaluta che non sapeva neanche esistesse, il creatore di quella criptovaluta, che ovviamente ha visto il prezzo salire all'impazzata, se non sbaglio è qua, è esatto, di Dogecoin, salire il prezzo all'impazzata improvvisamente. Da lì in realtà, non tramite una sua comunicazione, ma tramite documenti ufficiali della SEC, Security of Exchange Commission, dico piano perché mi ingarbuglio sempre quando lo dico, si è venuto a sapere che il dottor Elon Musk con la sua Tesla ha comprato un miliardo e mezzo di Bitcoin, punto numero uno, punto numero due, hanno in previsione di gestire le vendite delle future, prossimamente delle macchine, delle auto Tesla, tramite anche Bitcoin, quindi accettando pagamenti con Bitcoin. Sono due eventi molto importanti, ovviamente da questa notizia sia il valore di Tesla che quello del Bitcoin, soprattutto quello del Bitcoin, è salito all'impazzata, ha fatto qualcosa come il 15% in due giorni, ha toccato massimi folli, poi ti ripeto sto registrando questo video non sabato, ok, però secondo me ha continuato ad andare su, grande emozione, grande coinvolgimento, sono due eventi molto importanti, cerchiamo di capire un attimino meglio, intanto l'acquisto di un miliardo e mezzo di Bitcoin, perché? Da un punto di vista aziendale l'hanno giustificato come un investimento in un asset, ok? L'azienda, tutte le aziende devono usare la liquidità che hanno, anche in previsione di rendimenti non particolarmente eccezionali, ma giusto per evitare l'inflazione, anche perché se è un miliardo e mezzo al 2% di inflazione, sono una caterva di soldi che se ne vanno, quindi è corretto di per sé il principio di voler investire in qualsiasi cosa che non sia tenere fermi i soldi. Ovviamente gli esperti dicono, eh ma l'investimento in Bitcoin non è esattamente qualcosa che un'azienda si può permettere con tranquillità. In primo luogo per la volatilità, Bitcoin ha una volatilità stratosferica, fa un meno 20%, un più 20% in due giorni, è qualcosa che non è comparabile a nessun altro tipo di investimento, proprio perché non è un investimento letteralmente parlando. E quindi gli esperti si sono chiesti, ma davvero stanno compiendo questo gesto così particolare complicato? Vi dico subito che un miliardo e mezzo di liquidità in Bitcoin per Tesla non è una cifra spaventosa, quindi è come dedicare una parte di portafoglio a un asset un pochino più rischioso, si può fare, si può fare. Però gli esperti effettivamente hanno questo dubbio, ma davvero? Intendono farlo? È sensata come cosa? Oppure è una mossa pubblicitaria? Perché questa è la critica principale che è stata posta? Elon Musk è un genio nel far parlare di sé, è letteralmente un genio, è mostruosamente in gamba dal tuo punto di vista, quindi nel momento in cui fa parlare di sé, fa parlare di Tesla. Nel momento in cui fa parlare di Tesla, evidentemente hanno visto una correlazione con le vendite di Tesla. È normale, ci sta. Potrebbe essere una mossa pubblicitaria. In questo senso non ci sarebbe nulla di male, per carità, però basta identificarla per quel che è davvero. È ovvio che il grande problema è la definizione che si dà di Bitcoin. È una valuta? È un investimento? Beh, io personalmente rispondo di no a entrambe. Al momento, a parte che non è un investimento perché è tale quale all'oro, come dice Warren Buffett, l'oro non ti dà niente in cambio, se non il valore percepito. Se l'oro, fin dalla nascita dei tempi, non si fosse usato per costruire collane, avrebbe lo stesso valore di una penna, ok? L'oro ha il valore che gli forniscono le persone. Così come il Bitcoin. Non ha un investimento, non distribuisce dividendi, non ha un valore intrinseco che cresce, ok? Il suo prezzo è dato da una risposta, oltre all'AIP e ai vari coinvolgimenti del mercato, quindi ha il valore che le persone danno a quel tipo di asset, c'è un po' di domanda e offerta, ovviamente, perché questa è la grande critica che i Bitcoiners pongono a chi dice che il Bitcoin non è un investimento. Comunque, i Bitcoin sono limitati e quindi grazie alla legge della domanda e dell'offerta, al momento in cui l'offerta è limitata, il prezzo dovrà per forza salire. Può essere, può essere. Però sicuramente dal punto di vista di definizioni non si può dire un investimento. Per quanto mi riguarda, le definizioni stanno a zero. Io sono proprio l'ultimo degli accademici, non mi interessa, se mi interessano le cose pratiche, dal punto di vista pratico, però confermo, non è un investimento, non distribuisce i dividendi, non ha un valore intrinseco che aumenta nel tempo, quanto Apple, che vende molto di più, ha gli iPhone, che letteralmente vengono venduti, ha un numero di dipendenti, ha asset, eccetera. E quindi io comunque non lo considero ancora un investimento fino a se stessa. È una valuta? No! Non è una valuta semplicemente perché, a parte il fatto che non è utilizzata nel mondo, ok? E poi non è in qualche modo controllata. Io so che questa frase è sbagliata, ok? Me la potete criticare e ci sta. Ma il principio è che una valuta per essere tale deve essere condivisa, ok? La valuta di per sé non significa niente, non ha alcun tipo di valore, se non il valore della fiducia dei consumatori, ok? Però, dollaro e euro, ad esempio, sono controllati dalle banche centrali, che ne regolano il flusso, il bitcoin no. È positivo magari, è positivo, però sto dicendo che al momento non è ascrivibile a questa definizione. Dal mio punto di vista è ancora più grave il fatto che comunque non si utilizzi. Io non vado al bar a prendere un caffè in bitcoin, prima per le transazioni, per il costo commissionale che è troppo alto, e in secondo luogo perché oggi bitcoin è a 45.000, 50.000, domani è a 30.000, poi magari dopo va a 80.000, però capite che io pago qualcosa che ha un valore fisso, che è il caffè, o molto poco mobile, perché il caffè vent'anni fa non costava un euro e mezzo, costava 80 centesimi, ok? Però molto molto stabile, con qualcosa che di stabile non è. E un requisito per una valuta è che quantomeno abbia un sentore di stabilità, e poi deve avere la fiducia degli stessi consumatori che la utilizzano, ok? E da questo punto di vista non rispetta queste definizioni. A me non interessa, a me non interessa, io sono un osservatore, non faccio trading su bitcoin, non faccio investimenti su bitcoin, non faccio pagamenti su bitcoin. Ho bitcoin, pochi, ma lì per gioco, ok? Perché volevo approfondire il discorso. Non li considero neanche, ok? E quindi è interessante capire come si evolve la storia del bitcoin, come si evolve la percezione che hanno le persone del bitcoin. Secondo me è ancora presto, dico la verità, secondo me è ancora presto, però mettiamo caso che effettivamente Elon Musk inizia a vendere le sue auto tramite bitcoin, anche accettando pagamenti in bitcoin, sarebbe interessante perché io compro qualcosa di fisico, qualcosa che ha un valore, ok? Qualcosa che, cioè, io posso toccare gli pneumatici, posso toccare il computer di bordo, ok? Ed ho in cambio dei bitcoin molto volati. Qualcosa sarebbe, secondo me, uno stimolo interessante per incrementare l'utilizzo di bitcoin. Devo essere sincero, non si capisce ancora quando inizieranno a fare questo passaggio, ma se dovessero iniziare a farlo, beh, non sarebbe male, sarebbe una bella scommessa, ecco, mettiamola così, sarebbe una bella scommessa, vorrei molto sapere cosa ne pensate voi. Vi faccio vedere, questo articolo del Wall Street Journal, che vedete sempre nell'articolo linkato, nel link linkato qua sotto, spiega un po' il dettaglio. In questo dice che il tizio qua, Richard Waters, dice che non c'è grande possibilità che altre aziende riescano a fare la stessa cosa, perché Tesla e Elon Musk sono molto, molto, molto particolari, non c'è qualcosa di simile, e poi sembra un azzardo, non è molto concorde. Questo è un altro articolo di Paul Vigna, o Vigna, che dice sostanzialmente la stessa cosa, tra l'altro, dice una cosa interessante, perché l'Internal Revenue Service classifica i Bitcoin come una proprietà, non come una currency, non come una valuta, ok, questo non importa, è un'istituzione, l'istituzione fa quello che vuole, per carità, però, da un punto di vista di tassazione, è vista come una proprietà, quindi è sconveniente da quel punto di vista lì. Beh, è una cosa interessante da misurare, è un articolo che vi consiglio di leggere, perché è molto interessante. Quest'altro dice, ah, una, Katie, Katie Martin, dice, riprende un po' la storia di Elon Musk e di come si è creata tutto quanto questa bolla, ma alla fine della fiera dice che il mercato può restare più razionale di quanto noi pensiamo possa restare. In realtà, è una cosa che si continua a dire. In realtà, il mercato è molto più razionale di quello che pensiamo ed è veramente meno scontato del previsto che torni verso la media, ma è sempre stato così, in realtà. La bolla dei tulipani non è durata un giorno, non è durata due giorni, non è durata un mese. La bolla della compagnia di Marius del Sud è durata qualcosa come un anno, poi un picco di un mese, ma un anno. La bolla delle dot com è durata, il picco sarà durato sei mesi, ma si stava creando in due, tre, quattro anni, non è poco. La bolla del mercato immobiliare è iniziato a ricrearsi nel 2003-2004, ok? E, insomma, è da valutare. Poi il picco è stato a estate-autunno del 2008, però il mercato rimane più irrazionale di quanto pensiamo. e bisogna sempre ricordarlo. Perché ogni tanto si scende dal pelo. Si dice, ah, ok, non ci avevo pensato che il mercato può rimanere molto irrazionale. In realtà è così. Ma lo è sempre stato. Come al solito, la storia non ci dà certezza di sapere affrontare il futuro. Nella maniera più assoluta. Ci dà però strumenti. E gli strumenti, se li sappiamo utilizzare, li possiamo utilizzare. Possiamo affrontare il futuro immaginandolo come un bosco buio e tetro con una torcia in mano. Questo non vuol dire che troveremo comunque la strada, ma è meglio inoltrarci nel bosco buio e tetro con una torcia invece che con niente. La storia è quella torcia lì. E ci interessa, ci preme saperla. Tra l'altro, il discorso della storia si collega caldamente a tutti i nostri metodi di approccio ai mercati. Nel corso Bazzinvest, ad esempio, dove spiego come investire in ETF nel lungo periodo, io ho fatto tutto un modulo sulle bolle, sulle crisi del mercato. Perché è importante sapere, è importante capire che il mercato siamo noi. Il mercato sono le persone. Il mercato rimane irrazionale tanto quanto rimangono irrazionali le persone. E le persone sono molto più razionali di quello che noi ammettiamo di essere. È un dato di fatto. Nei trading system, il trading system utilizza la storia per affrontare il futuro. Ma, essendo uno strumento, la storia può anche utilizzarla male. Quel trading system, se non fai una corretta validazione, rischi di usare male la storia, di pensare, di avere una torcia incredibile che fa performance da capogiro, ma poi si rompe subito dopo e tu ti ritrovi di nuovo al buio. Insomma, la storia è importante ed è, e non è da sottovalutare. L'altro tema di cui volevo parlarvi è il tema Robin Hood. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché io vorrei fare un video apposta, però la lancio lì, lancio lì un po' il discorso. Ci sono tre articoli riguardo Robin Hood. Questo di Michael McKenzie sul Financial Times, questo di Peter Radgesen sul Wall Street Journal e questo è un po' più lungo di uno che non scrivono mai, io non so perché l'Economist non scrive chi scrive gli articoli, comunque è interessante in generale sul mercato dei retail. Il principio qual è? Il principio è che Robin Hood è sotto gli occhi dei riflettori da un po' di tempo, ok? Ha avuto delle difficoltà date dal fatto che ha impedito alcuni tipi di operazioni nel momento di GameStop e è stato un po' preso di mira. Ma dall'altro canto, promettendo zero commissioni, è un po' il paladino, l'app paladina dei trader retail, di chi pensa di combattere un po' di essere il Davide contro Golia, ok? Contro i grandi hedge funds, i grandi fondi, ci sono io con la mia app gratuita che permette a me e a molti altri che non hanno gli strumenti o le capacità o il tempo o il capitale di dedicarci chissà quanto di approcciare il trading in modo molto più semplice e immediato. Quindi è un po' letteralmente vista come la Robin Hood inteso come personaggio storico, ok? Come veramente quello strumento che ci permette di affrontare il mercato da piccoli investitori e di battere lo stesso grazie al fatto che non ha le commissioni. Due cose, due criticità che poi c'è una terza nascosta e del parere che vi voglio dare e ve lo do alla fine. Uno, sta affrontando un sacco di cause e di problemi, adesso deve recuperare un po' di soldi perché il suo discorso di vendere lo scoperto ha fatto sì che dovesse incrementare la propria liquidità, dovrebbe quotarsi fare un IPO fra un po' di tempo, è abbastanza incasinata e ha una causa dietro l'altra, io monitorerei, nel senso che non mi affiderei comunque totalmente a un'app così instabile, ok? Perché ha una causa dietro l'altra, deve sempre cercare nuovi capitali, è un po' un casino e questa situazione la spiega molto bene questo articolo. Questo altro articolo spiega un'altra causa di questo ragazzo che si è suicidato. cosa è successo? In una sera lì è arrivata un messaggio da Robin Hood incrementa la tua posizione perché sei sotto di 175 mila dollari se non vado errato di 178 mila dollari ok? Lui oddio io pensavo di avere solo 10 mila dollari e di rischiare quello che pensavo stessi rischiando e invece così tanto. Durante la stessa notte ha mandato tre email a Robin Hood per chiedere dettagli ma la risposta è sempre stata data da un'intelligenza artificiale da un robot quindi risposta automatica e in mattinata si è suicidato. Le critiche sono state la comunicazione non è sufficiente perché questo ragazzo in realtà non stava rischiando di perdere 178 mila dollari ma è una questione di competenze e di formazione un po' ovviamente colpa sua perché io non affronterei mai un'operazione chirurgica non opererai mai mio fratello ai reni senza avere le competenze quindi sicuramente c'è una sua colpa ma sicuramente c'è una colpa di Robin Hood perché non aveva una hotline una chiama per le emergenze un numero verde c'era una risposta automatica la risposta automatica non aiuta ok quindi è stata criticata Robin Hood per l'assenza di comunicazione di formazione di educazione e questo è un problema ma non è un problema solo secondo me di Robin Hood tecnicamente sì per l'assenza di quella messaggistica di quel contatto umano che sarebbe servito a salvare una vita ma il problema è un po' più a fondo cioè lasciare trapelare lasciare far intuire alle persone suggerire insinuare alle persone che possono fare trading serenamente anche senza competenze ripeto questa è una cosa non solo di Robin Hood ci mancherebbe però è un problema è un problema molto grande che porta moltissime persone sul lungo periodo a perdere soldi semplicemente perché il trading volendo lo puoi fare anche a tempo perso non deve essere forse un lavoro come lo è per me ma serve la stessa quantità di serietà come se fosse un lavoro ok non è piantare gerani come hobby hobby lo puoi tenere ma è un livello hobbystico un po' più alto e va approfondito fatemi sapere cosa ne pensate terzo punto su Robin Hood e non è proprio Robin Hood il povero contro ricco il povero retail contro grande hedge fund squalo dei mercati perché non funziona così Robin Hood fa i soldi vendendo i vostri dati i vostri ordini a dei grandi hedge fund high frequency trader e non è esattamente una mossa da Robin Hood ok vende i flussi di ordini a hedge fund che fanno i soldi alle vostre spalle non li farebbero se voi aveste comunque voi retail di Robin Hood è come se parlassi a loro se avessero comunque le competenze in realtà non ce l'hanno e quindi Robin Hood si fa due volte i soldi così cioè questa questa narrazione del del povero trader dalla cameretta contro gli hedge funds non è così la realtà non è quella fatemi sapere cosa ne pensate poi farò un video apposta dedicato l'ultimo l'ultima descrizione è un articolo molto lungo dell'economist riguardo l'impatto dei trader retail poi abbiamo velocemente in carrellata perché non mi soffermo un articolo su renaissance 4 metriche per capire che il mercato è sopravvalutato interessante di circa 33% va bene ok se ci interessa o non ci interessa sarà un altro discorso ne parleremo questo articolo questo nel Hume che non è articolista del Financial Times se non vado errato vede prossimamente grazie anche all'inflazione l'inizio di un super ciclo delle commodities quindi un aumento di prezzo abbiamo parlato martedì sera nella diretta B-Club è una cosa molto interessante da approfondire il prezzo delle case sta aumentando Bill Gates sta investendo nel natural gas senza impatto del carbone e dobbiamo preoccuparci dell'inflazione sono articoli secondo me molto interessanti da approfondire ve li lascio nell'articolo di dettaglio a me interessava oggi approfondire due temi Tesla e Bitcoin e Robinhood fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se avete Bitcoin se non avete Bitcoin che futuro vedete per Bitcoin abbiamo anche il gruppo Facebook per questo e Robinhood la usate o non la usate vi sentite un po' Davide contro Golia o avete capito che non è totalmente così fatemi sapere noi ci vediamo domani alle 10 per la Buzzletter una Buzzletter esplosiva molto 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 interessante link in descrizione è la newsletter ufficiale di BuzzWay e ogni giorno alle 14 con un nuovo video e il venerdì sera con una bella diretta io non vedo l'ora buon weekend fate bravi riposatevi buon sabato buona domenica buona Buzzletter mangiate buona weekend ciao